Il mio fratello Rick Ciao Come va? Allora che si dice? Niente di nuovo Vi dà? Nessuna? Non so quante volte ho pensato che sarei morto qui per strada Così L'avevo fatto salire in macchina e la polizia ci ha fermato Allora mi sono inventato una storia Sono un pastore metodista e mi sto occupando di lui Ok? Siamo a posto? O meno sono un amico? Questo è il domino Adesso ti faccio vedere come si gioca veramente